Con i ristoranti in crisi, gli chef si rifugiano negli hotel, cercando sempre di più un'alleanza con i grandi alberghi, che comunque sono rimasti aperti con il servizio a tavola per i clienti e che dal canto loro puntano a garantire per la prossima stagione una nuova esperienza. Ecco che grandi catene storiche famiglie investono le loro strutture, puntando proprio sulla ristorazione dell'hotel, che in un'altra estate, probabilmente difficile, potrà diventare una chiave di attrazione. Riaprire i ristoranti è quindi una priorità per tutto l'indotto. Sarebbe opportuno dare agli operatori del settore una priorità sul piano vaccinale. Mettere in sicurezza gli addetti dell'Oreta offrirebbe tranquillità anche ai turisti. Gli esempi vengono dalla Grecia, con le sue isole covid-free già prese d'assalto, o anche da Israele, che grazie alla vaccinazione di massa fatta in tempo record, sta diventando una delle mete più interessanti per un turismo che, ora più che mai, vuole puntare sulla sicurezza. Si è conclusa, con piena soddisfazione degli organizzatori, l'edizione Full Digital di SIGEP 2021. 250 espositori, 268 buyers da 60 paesi, con oltre 2.000 appuntamenti. Oltre 200 eventi organizzati nei format Vision Plaza, dove vi sono analizzati i trend vincenti del mondo della gelateria, pasticceria e panificazione, e poi SIGEP Lab, dove gli espositori hanno presentato le ultime novità. L'appuntamento è alla prossima edizione 2022, dove SIGEP torna live, in presenza, dal 22 al 26 gennaio. Char Food Service, la divisione del gruppo Dotto Char, dedicata al fuoricasa, presenta Food Charvis, la piattaforma di e-learning rivolta a tutti i professionisti dell'Oreca, che desiderano conoscere la tematica della celiachia e della ristorazione gluten-free. Completamente gratuita e studiata per fornire un servizio utile ad ogni professionista del fuoricasa, dal cameriere allo chef, fino alla direzione, che potranno così scoprire tutte le opportunità del senza glutine, come offrirlo in sicurezza e avere consigli pratici sulla cucina gluten-free. Per accedere e registrarsi a Food Charvis, visitare il sito www.charfoodservice.com.it Questa rubrica è stata offerta da Italmeal, Dottor Char Food Service, prodotti gluten-free.